Niente partitella in famiglia, spazio ed esercitazioni tecnico-tattiche, dalle quali però sono emerse alcune indicazioni per la sfida con la Carrarese. Stando a quanto visto sul campo della nave, salgono le quotazioni di Erpen nell'undici titolare insieme a quelle di Pietro Arcidiacono, che dopo lo spezzone di partita con il Como sembra pronto per l'esordio dal primo minuto. Stefano Sottili ha diviso in due gruppi la squadra. Da una parte una formazione in campo con il 4-3-3, il modulo utilizzato alla Carrarese, dall'altra un 4-2-3-1 con Milesi e Solini al centro della difesa e il tridente alle spalle di Moscardelli, formato da Ianga a sinistra, Arcidiacono a destra ed Erpen trequartista. Tra le certezze in vista della trasferta di Carrara oltre al modulo ci sono le assenze di Sergio Sabatino, che deve ancora scontare un turno di squalifica, e Giuseppe De Feudis. Il problema all'iniziazione dell'adduttore costringerà quasi sicuramente ai box il mediano Amaranto.